Noi abbiamo, come potete vedere, un giocatore madre, in questo caso Berguin, dove andremo a farci la squadra intorno Abbiamo questa lavagnetta sia io che il frene Su questa lavagnetta io scriverò chi penso che il frene metterà e lui farà lo stesso con me, ok? Nel caso in cui io dovessi beccare un giocatore a frene o viceversa, posso scegliere chi mettergli Avremo a disposizione un jolly, dove appunto possiamo mettere un giocatore fuori ruolo Quindi immaginate che se gli becco il portiere io ci metto boh, giovinco Alla fine di tutto ci scontreremo, dopodiché con la differenza reti ci sarà un search and discard Search and discard caruccio Quindi praticamente finisce 2-1, search and discard con una carta che ha perso la descarta così, ok? Molto semplice Allora io ti dico la verità, mi sono stancato a essere la tua donna Cioè io ogni volta esco da si squad builder piegato a metà col sedere tutto rotto Oggi il sedere è vero, come sono un po' allargato a livello di... Infatti te ne vedi un po' da una calmata Allora, vogliamo iniziare? Scegliamo il modulo? Vai, dammi a scegliere il modulo Addio Addio my man Oh innanzitutto io mi vado a scegliere il modulo per me Oh, Berwin è una cartolina simpatica Lo voglio gioca esterno o lo voglio gioca punta? Ma sicuramente è un modulo con le ali per forza Ma lui non si aspetta mai che io voglio il 4-4-2 classico che lui usa sempre Allora io vedo che spammate il 5-3-2 Ma voi brutti, puzzolenti, i tasto da 5-3-2 Uno non si può usare perché Berwin è esterno Io andrò proprio a prendere Ma però ti dirò il 4-4-1-1 per rite se potrebbe usare Mezzo per rite, mezzo ce sto Ragazzi 4-4-2 normali Invece lui, secondo me va Dato che lo vuole mezzo gioca punta Io a Zano mezzo che lo conosco Mi puzza sto modulo qua 4-3-2-1 E frene, invece Lo dico io che vuole E frene se vi era proprio sto modulo, regà Easy game Pre Che sto, eh, ho fatto Ti dico il modulo mio Mostra la lavagnetta Dica Io desidero il 4-4-2 normale Lo puoi avere Avevo scritto 4-3-2-1 Io voglio, se possibile, il 4-4-4-1-1-2 Lo puoi avere, indovina cosa avevo scritto anch'io Il 4-3-2-1 faccetta chiesa Cazzo pure te, what the fuck Sì, pure io, perché ho detto Secondo me vorrebbe giocare il signor Steven Ah, TS Eh, non era male come idea, infatti E perché ci avevo pensato Perché è bello Cazzo Perché è caruccio Sarebbe da sfruttare, capito? Dato che tu devi fare due attaccanti e l'esterno destro Io faccio ATT-COC esterno destro Daglie, daglie Let's go Adesso ci mettiamo il vero Pepe Perché lui non sa una cosa Lui non sa che io ho due Rashford Ho quello 88 e ho quello 86 E io qui ci metto Rashford 86 E qua ci metti un Icon Ci metti Sanchez Io faccio una squadra full Pepe contro lo Zanone Secondo me se andavo del full premier Restiamo nel shilling Oh, ma hanno appato sto Gabriele e Gesù 3D debole Vabbè, ma che ce frega Amica, devo tryhardare Mamma mia, avete proprio il tryhard in mente Ci avete Zio porco Poi, trequartista Pure Bernardo Silva è carino, regà Non l'ho mai provato Bernardo è la mia scelta Mentre esterno destro Bello Perire Vabbè, dai, sì Ci metto lo Zano Dai, ci metto lo Zanone Mi piace Questa è la nostra Sì, stasera perdiamo un botto dei crediti Quindi lui ci mette in attacco O un Icon Un attaccante olandese O un attaccante della premier Allora, fammo una cosa, boys Partimo dall'esterno destro Robben Lui mette un attaccante punta E mette Robben a destra E qua ci mette punta Sì, un olandese Dennis Bergkamp Vorrebbe fallo Zanone Secondo me Mohamed non muovo via Mentre il frene Aspetta Aspetta Rashford Perché il maniaco Ce l'ha rosso Quell'86 E non gliene frega un cazzo Perché c'ha pure l'88 Lui non sa Che io Due Rashford Io metto Rashford A Ozza E alla destra Metto Salah E se mette Sti due C.O.C. Tanto gli fa intesa tutti Vorrebbe mettere uno della premier Tipo C.O.C. Ci vorrebbe mettere tranquillamente Tipo Bruno Fernandez Poi l'ho buttata un po' In cacciare a cazzo Le cane Allora Prima l'ho cominciato io E comincio da Vabbè faccio attaccante Allora A T.T. Ci ho acquittato Il signor Gabriele Gesù Ce lo puoi avere Buonissimo C.O.C. Eh questo ce l'ho paura Bernardo Silva Quello Fritz Me sa Che carta è questa? Ho scritto Bruno Mamma mia Meno male E a destra Ho provato lui Momo Salah Porca A si ce li puoi avere tutti Cioè Ho messo Robben Bergkamp Bruno Fernandez Mamma mia L'ho chillata Allora io Attaccante sinistro Sì Rushford 86 Ok Potrei averlo scritto Effettivamente Poi Sanchez Sanchez Elaicon Ok quello Ci ho Va bene Irving Lozano 86 A destra Va bene Puoi avere loro due Ma Rushford Non credo che tu possa Sarelo Ma perché Non penso proprio Perché l'hai scritto Ma perché tu ce l'hai lì a far brodo L'86 Cioè Ho detto Guarda che c'ha la versione 86 Zossa Della VL Penso proprio che lo butterà in cacciata Dai dimmi che ce le ho mette qua dai Lo dico subito Anzi Te faccio Fa pure un green link Te ce faccio Mette Ma sei così gentile Sì sì Ci metti Ugo Yorin In attacco Ci metti Ugo Yorin Che te linka con Berguin Che non è male Poi è forte Mancino Poi anzi Doppio Ugo in attacco Doppio Ugo Ugo Yorin E Ugo Sanchez A me vede il piede De Yorin C'è la buona Che è uno dei debole Ma che te frega Uno dei skill E uno dei debole Ma è una manata Dai me lo compro dopo Che mo c'ho quello Come cazzo si chiama Il coglione In prestito Fra lei c'è Se è tallato Ma perché devo giocare sempre Quei portieri in attacco Contro le te Ma basta Ma frate Uno uno Significa che mentre Si allaccia le scarpe Casca di testa Cioè Ma che cazzo è Uno uno Una volta che ci metto Un po' dei giocatori Un po' più corposi Un po' di beve Me ne vuoi ritrovare Comunque in attacco Perché ogni volta Devo da fiducia a Rashford E me lo giocchi Ogni volta Non lo metto mai più Ti giuro Rashford è la tua condanna Cazzo Quindi facciamo i centrocampisti A domo Ma è meglio A domo Ah rega Ma l'ho detto Di Rashford Ah sì ma sto Rashford Fisso beccato Fisso che lo scrive Mi tocca giocare un'altra volta Con sto bifolco Guarda come rire Questo non si regge Manco in piedi Cioè io posso mettere Qualsiasi cc Ma giusto una curiosità Che era Nikon Massimo Sì Ok ciao Orcoddio Si potrebbe Mette Queer Gullit Brutto fracico Quella versione Quella versione Quella versione dei Gullit Fa proprio ride E te fa una grassa risata Così almeno Bergwin in realtà Sta pure linkato Mentre l'altro Centrocampista centrale Damo un'occhiata A quelli disponibili In realtà Della Premier League Perché C'è Un po' De versioni De porpaccio Un Bobby Firmino Che io ce l'ho Willandium Chiude tutto Però è un rischio Perché non è brutto Capito Cioè È uno che quando Lo vede frene Secondo me dice Questo è Dezzano Però Restiamo sempre Nella situazione Dove Magari il frene Dice ma come cazzo Se scrive questo E non lo mette Ragazzi io sono rovinato Sono un morto Che cammina Io qua ci devo Andar a mettere Un cc Che ci fa Anche il link Poi con un Con un ipotetico Difensore Della serie A Diff Dezzieliski Mezza onesta La carta Dezzieliski Cioè Volevo mettere Musaka Ma si dai Ma vaffanculo Mettiamoci Pisellone Musaka In attacco Lui c'ha Due cc Allora Secondo me Lui mette Jordan Anderson Un altro Che me sconfinfera Che vorrebbe mette Vorrebbe mette Thomas Partey Però Thomas Partey Non saprei come Lo vorrebbe linkà E Madison Ok Frate Secondo me Bobby Firmino Non ce lo scrive Che è Perché non ce l'ho Ah regà Ce l'ho a Titti Next No vabbè Mettici qua in Aldoom Dai Mentre lui Chi cazzo se mette Lo zano a destra Chiude Guernandes Anzi io che si Ce lo scrivo Per forza Cioè Chi cazzo Deve mette L'altro Il freno avrà guardato I centrocampisti Dalla premier Ha visto il polpo Ha detto Quasi quasi Io il polpo Ce lo metto Tanto mica Ce lo scrive Mi butto sul polpo Cosa? Ah oh Dimmi tutto Allora Cici di sinistra Lui Il più bello Il più muscoloso Il più goloso Musa Sissoko Ce lo puoi avere Che avevi scritto Polpo Gba E l'altro Zieny Schiff No No ce lo puoi avere Avevo scritto Chissi di pallonette Uff Bono Mi dica i suoi due cc Giorgino Wijnaldum Non ci credo Lo volevo scrivere Lo volevo scrivere Se ho scritto Jordan Anderson Mamma mia Gigi Che culo Mentre l'altro cc Ruth Gullit Il baby Che l'ho trovato Nel pacco Icona base medium Ma sei un Maniaco Vabbè una Ho scritto Madison Fa schifo L'ho messo lì Per ride Vediamo come va Volevo scrivere Giorgino Fino all'ultimo Ho detto Dai non sarà così scontato Invece mi hai fatto La mossa del jaguaro Antico T'ho fatto la mossa Del jaguaro Facciamo i tersini E poi dopo Facciamo alla fine I due dici Il portiere Va bene I tersini Regà abbiamo un problema 33.3% Che me ne becchi Uno regà Secondo me scrive Van Bissaga Ci metto Semmedo Tersino sinistro Premier Secondo me E ci mette Tipo Tipo Teyes Secondo me Te dirò Ci metto Teyes Pure io Tersino destro Secondo me Lo sapete Che potrebbe Falle infame Mette Van Bissaga Ah sì Ci metto Qua rato Dai T'ho quello Man of the match Ci mettevo un po' De pepe Tersino sinistro In realtà Ci posso mettere Chi me pare Van Anolt Mi piace Allora lui c'ha il 4-1 4-1 Non è che lo vuole Mette pure lui Van Anolt Tersino destro Lava c'è Arnold Cancelo Semmedo Van Bissaga Riccardo Pereira Boh C'è scrivo Cancelo Ti mostro la lavagnetta Come terzino destro Ho scelto un giocatore Abbastanza conosciuto E infatti ho paura Nelson Semmedo Ma porca di quella puttana Che hai scritto? Gioao Cancelo Ok Tersino sinistro Teyes Ce li puoi tutti e due Ho scritto Van Anolt Cancelo Vedi Vedi GG Tersino destro Il panita One quadrato Man of the match Dove puoi cuccare Dove puoi cuccare A sinistra ce l'ho paura Van Anolt Dove puoi avere Quindi adesso I due DC e il portiere I due DC e il portiere Vai Allora Difensori Non ce l'ho più Ho finito gli Angelio Bonni Diego Carlos Fabinho Che importa ci metti uno che non è Premier Ci metti un brasiliano Ci devi mettere Neto Allora io qua posso mettere chi me pare Tomori del Milan C'è già Tomori del Milan Però cazzo c'è sta Manolas e Coulibaly Che sono molto più rotti eh Dai sì ma volevamo fare una cosa carina Ma se no sempre la stessa roba Ma afficciamoci i tumori Va fammoc Va E qua Stonesif Pup Pickford Anderson Io ci metto Pickford Ci metti Pickford Stonesif Dumori E Pickford Mentre Il K Potrebbe buttarsi In una difesa Full Serie A No io scrivo sia Coulibaly Che Manolas Non ti dirò Secondo me ci mette Andanovic Brasiliano E icon olandese Qua lui ci deve mettere Per forza De cose Un DC Inglese Che porrebbe essere O Van Dijk O Ake Tiago Silva Fabinho Headliner E quando mette Fabinho Headliner Allora io in porta Ci metto Ederson E ci scrivo Ake E ci scrivi Van Dijk Ah sì sono diventato scemo Ok Perché te ne devo beccarmi No uno Però secondo me Non te ne ho beccato Neanche uno sto giro Ti hai fatto? Sì 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 Ho fatto ho fatto Ho fatto Ok Tocca a me di te I giornatori miei Ho messo Tomori del Milan A destra Ok Toms Ife a sinistra Ok E Pickford in porta Eh saggio 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 Ce li fai per tutti Poi ho buttato in caccia L'ho scritto sia Coulibaly che Manolas Per il link pure a Genischi Magari tipo Uno dove ho becco E poi in porta L'ho buttato in caccia Randanovic Per ide Io Invece Non mi di Marchinhos No Diego Carlos Porca madosca Però quindi Significa che quest'altro Mo potresti aver preso Che l'altro è Fabinho Non ci voglio crederci Ti rivedi il voto Ho detto Ma te pare che Zano gioca Con Fabinho Redliner C'ha 69 di velocità Fatto Diego Carlos Fabinho In porta Neto Madonna mia Ederson Ho scritto Eh lo so Lì era Portiere brasiliano Doveva andare su quello Meno rischioso GG Ci sono andato vicino GG Cazzo c'ho la full team È vero Io c'ho full team Sì io porco Ci sono andato così vicino Nel suo giro c'ho un sacco di giocatori che costano Vai andiamo fullitas Ricapitolando Due squadre Golose Però c'è sta Un particolare Giusto Giusto piccolino Dimme E c'ho Ugo Iuris A fianco a Ugo Sanchez Frate ma c'ha uno Uno Ti stai a lamentare Ricordate poi che è destro Iuri eh Com'è destro Non è mancino No è destro Ma è mancino Ma sei un biforco E inizia Una partita fantastica È già in vivo Guarda rude Con i capelli Ma quant'è grasso Sto rude frate Ma ha preso una ventina di chili Se segno Con Ugo Iuris Mamma mia Mamma mia Ugo Sanchez Oh guardate Lo vorrebbe farlo Oh Bergwin Oh no fre Mi dispiace fre E becchi l'esultanza De Bergwin Ma sì ma scusami Ma Quarrato Dove cazzo è andato Guarda guarda La velocità di Fabigno Stacce E sto modulo Mi sembra un po' puzzolente Ti dirò Oh Bergwin ancora Ma sì ma che sono Sti buchi di Quarrato Dovrebbe essere l'unico bono Gabriele Mamma mia È vero che c'è C'è un cianpiede Oh no Oh no Oh no Ma dov'è La bomba No partiamo Partiamo male Partiamo subito Col piede sbagliato Si leva il capito Pronto Mi stanno a dire Stai Regà state su roca diretta Cioè Che mi è stata lamentà Non capisco perché Ve lamentiate oggi Cioè Oh lo zano Intoriato Vorrebbe galoppa Eh galoppa 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 Zanone Ma sì ma Quarrato Che problemi c'ha No Insomma Giorgino Wijnaldum Nel pere al ventiduesimo Sì c'è una difesa Che è solida Come il cazzo di Barbo Io so In attacco una cosa Che è più moscia De in gelato Che sta fuori dal frigorifero Ben annetto No Sì so Oh Ma gli ha bucato le mani No sì Qua sta andare a finire in cacciare Qua non me sta a piacere Anzi qua non me sta a piacere per niente Ma voglio dire gol Hai spostato pure il portiere Ho spostato l'altro il portiere Guardalo Preciso Ma che cazzo Padre Pio Cazzo quattro pere sono gravi C'hai bei giocatori comunque Bergui le costa un cappone No eh Mamma mia Mamma mia Dai un gol al quarantacinquesimo Di quelli che ci piacciono Per buco E' lo Ugo Ugo E' lui Con il numero uno Ugo Lioris Questa la considero Come una sconfitta Cazzo No dalla Ugo Devo stare a tagliare come un riccio Ma Ugo è un mostro Ah sì Ugo La tiene La t'ho baffato Ma è un fenomenale Va bene No E' il Sanchez Da Ugo a Ugo Il Sanchez Ma Ugo è Francesco Totti Del Cioè ma che cazzo Ma fa dei passaggi GG Sai non è sa che ha mangiato la merda La sento un odorino Ma porco te non mi fa rire dai Provalo Provalo E lo metto lì Bernardo No Sì Ma Musaka che ha fatto Musaka Ha fatto la mussa La merda Per Atena Sì Guarda cazzo Guarda cazzione Qua della che imbarcava E' certi No No Entra dentro Spaccala Spaccala Ma come fa a recuperarmi Sto bifolco Come fa a recuperarmi lo zano Che l'unica cosa che c'è La velocità Fisca sta partita Fisca sta partita Mamma mia Aspetta Sì Io me devo andare a cambiare la maglietta Sto i faccioli Che game ragazzi Oddio Quattro giocatori Devo scartare Quattro giocatori Sto a pensare Frene dove potrebbe mettere il ciotto Lo tengo cc Cc di destra Ci sei? Yes È pronto? Allora Sono quattro scarti ATT di sinistra Non sto piangendo Mi è entrato solo un lo zano nell'occhio Ma che versione è però? Aspetta 86 Porca troia Quanto costa? Costa 220 bomboloni 230 bomboloni al formaggio Oh cazzo È volato È volato Voglio fare una piccola parentesi A tutte le persone che dicono Tanto lo recupera dalla web app Non l'avevo mai recuperati Non l'abbiamo mai recuperato Un cazzo Uno Due Io a web app Manco ce l'ho Io ma Sì Io manco Non l'abbiamo mai aperta Non l'abbiamo mai aperta Noi l'abbiamo sempre fatta Sta cosa Fin da prima Che i giocatori fossero recuperabili Ok Vabbè E il primo è andato E se siamo levati 200k Per dire E il secondo te dirò DC di destra Oh figlio mio Porco Che stai Col PNG aperto Che cazzo Chi è? Che c'hai? Quadrato Man of the match Altri 350.000 Madonna Fratello Battaglia navale Oggi Mamma mia Mote più pure Bergwin No Sta buono È volato È volato Terzino Sinistro Banano Altri rule breakers Vabbè Dai sti cazzi Dai Almeno non usi più Nei squad builder Showdown Che mi ha rotti i coglioni Schifo sempre Deyes E prendi sempre lui Ah sì Eh Occhio a quello che dici Che c'ho un pennarello Che Porco Da penate Vero Te lo metto Lì eh Nel naso ATT di destra Grazie Porca troia Oh Chi t'ho preso? Pickford Mamma mia Doce l'avevi Bergwin? DC di destra Holy shit Mamma mia Sì Ma Sì Mi hai presi più golosi Tranne Bergwin Sì Com'è che si dice Stace Sì C'è sto